Le ultimissime news di Casa Inter fra calcio-mercato e campo, perché la sosta per le nazionali è ormai ufficialmente terminata e quindi fra poche ore si torna in campo e affronteremo domenica sera la Juventus in una partita importantissima, sentitissima, che chiaramente vivremo insieme anche qui su Passione Inter. In questo episodio però facciamo un punto della situazione su alcune delle ultime notizie emerse in queste ore nel format che più vi piace e che più ci richiedete, in cui appunto condensiamo in un unico episodio 3-4 notizie principali e facciamo il punto sulle novità nero-azzurre. Partiamo subito, ben ritrovati amici e amici di Passione Inter e partiamo da un'altra partita che non è Juventus-Inter ma è Bologna-Inter. Voglio partire da qui perché ci sono delle novità ufficiali innanzitutto e però delle cose da precisare. La prima ufficialità è la data. È stata ieri ufficializzata la data del 27 aprile, che era quella un po' più nell'aria diciamo così, da parte della Lega, in cui dovrebbe rigiocarsi Bologna-Inter insieme anche ad altri recuperi che ancora erano in ballo. Perché dico dovrebbe? Perché in realtà la data non è la certificazione ufficiale del fatto che la partita si giochi. Il 13 aprile, infatti, il Collegio di Garanzia del CONI discuterà il ricorso che l'Inter ha presentato il 21 di marzo, quindi una decina di giorni fa, e tecnicamente potrebbe anche dare ragione all'Inter in materia di questo ricorso e quindi stabilire lo 0-3 a tavolino con conseguente vittoria da parte dell'Inter. Il 13 aprile, quindi, si deciderà quest'ultima situazione. Al momento pare poco probabile comunque che questa partita si decida appunto a tavolino, quindi è molto probabile che alla fine si rigiochi. Però la data attualmente non è ancora la certificazione. Nel caso in cui il Collegio di Garanzia del CONI dicesse non desse ragione all'Inter, diciamo così, allora a quel punto l'ufficialità sarebbe definitiva e mancherebbe solo poi l'orario ufficiale per rivedere in campo Bologna e Inter appunto il 27 aprile. Questa era solo una piccola precisazione perché alcuni tifosi anche, ad esempio nel nostro gruppo Telegram su Passione Inter, ci hanno chiesto il motivo di questo distinguo. Questa è un pochino la spiegazione. Veniamo ad altre notizie un po' più succose. Ha parlato in queste ore Alessandro Antonello, dirigente dell'Inter, amministratore delegato dell'area corporate appunto Nerazzurra, ha affrontato due temi molto importanti. Il primo è quello dello stadio, di cui si sta parlando molto anche in queste ore. Ha parlato anche il sindaco Sala, ha parlato il sindaco di Sesto San Giovanni, ma fra poco ci torniamo. E poi ha parlato anche del futuro a breve e medio termine dell'Inter a livello economico e delle prospettive con la proprietà di Suning. Per quanto riguarda lo stadio, sostanzialmente ha detto solo due brevi cose. La prima è che l'Inter, ma anche il Milan, temono sostanzialmente due cose. L'allungamento eccessivo dei tempi, che mi permetto di dire ci siamo già dentro, perché siamo veramente in enorme ritardo rispetto al resto dell'Europa, e lo stravolgimento di un progetto che già adesso è stato comunque rivoluzionato rispetto alla previsione e al primo progetto che appunto le due società avevano presentato al comune. L'ipotesi quindi di costruire un nuovo stadio in una zona che non sia quella di cui attualmente si parla, quindi di fianco a dove attualmente risiede San Siro, è ancora viva. Sostanzialmente Antonello ha fatto capire che la necessità di avere questo nuovo stadio è primaria e supera qualsiasi altro tipo di altra necessità di tempistica, eccetera. Quindi la porticina di un cambio di sede, diciamo così, viene lasciata aperta e in questo senso, dicevo, il sindaco di Sesto San Giovanni ha parlato in queste ore, loro sarebbero, diciamo, felicissimi di essere selezionati come nuova area, perché comunque darebbe grande lustro, eccetera, eccetera. Comunque si vedrà, occhio però, perché le società adesso premono e il tempo è veramente poco. Per quanto riguarda invece il discorso economico e sul futuro con Suning, vi mostro anche a video le parole di Antonello, perché Antonello dice innanzitutto per quanto riguarda il bilancio su cui fra poco peraltro torno gli viene chiesta appunto una previsione dopo la chiusura a meno 245 milioni dell'anno scorso, un rosso spaventoso. Antonello dice appunto che quello dell'anno scorso era un risultato penalizzato da fattori straordinari, quindi la pandemia, ma anche una serie di operazioni che l'Inter ha fatto e che quest'anno non avrà più necessità di fare. Quindi, per esempio, la risoluzione del contratto con Antonio Conte, con Angolan, con Gioromario e con altri giocatori. Quest'anno, dice Antonello, la perdita sarà più che dimezzata. Si prevede una perdita intorno ai 100 milioni di euro, frutto sia di alcuni malus che non ci saranno più, che di alcuni bonus che invece si sono aggiunti e che fra poco però vi illustrerò. Dopodiché appunto gli viene chiesto bisogna aspettarsi altri anni di austerity all'Inter e lui dice in questo momento è corretto garantire una sostenibilità economica e finanziaria al club e se questo significa una riduzione dei costi andremo avanti in questo senso. Queste parole purtroppo ai tifosi non piacciono e io che sono anche un tifoso mi ci metto in mezzo, però la situazione viene ribadita ancora una volta da Antonello che poi dice dobbiamo lavorare a braccetto con Marotta, lo scudetto dell'anno scorso e la cavalcata di quest'anno ci dimostrano, dice Antonello, che rimanere competitivo a livello sportivo mantenendo però un occhio ai conti è comunque possibile. Anche questo so che è una tesi che non tutti condividono e posso capirlo, però purtroppo la realtà dei fatti ci costringe a ribadire questo scenario che Antonello ha prontamente ribadito e poi in chiusura mi dimenticavo una battuta sul futuro con Suning perché gli viene chiesto in contesto al discorso stadio il minore del fondo Elliot, voi avete Suning, appena ottenuto il via libera allo stadio venderanno a prezzo maggiorato. Questa è anche un po' la voce che spesso circola e viene portata come provocazione ad Antonello. Antonello che dice la presenza del presidente Steven Zhang nell'ufficio qui accanto rappresenta anche fisicamente l'impegno di lungo termine della proprietà del club. E quindi anche questa cosa che comunque viene detta da ormai da tempo viene ribadita la volontà, anzi non la necessità, la volontà da parte di Suning di rimanere al comando. Vedremo naturalmente cosa accadrà. Mi ricollego brevemente ragazzi sul discorso del bilancio perché in queste ore è stata anche approvata la semestrale di bilancio dell'Inter che copre il periodo che va dall'1 luglio al 31 dicembre 2021 e vi dicevo le previsioni che l'Inter faceva sono confermate. Il rosso probabile, diceva anche Antonello, sarà a fine anno, quindi al 30 giugno, di circa 100 milioni di euro, quindi meno della metà rispetto al numero enorme dell'anno scorso. Prima vi ho citato brevemente i malus che sono stati caricati nel bilancio scorso e che non ci saranno quest'anno. Adesso vi cito brevemente i bonus che sono innanzitutto i nuovi sponsor che hanno portato degli introiti superiori all'Inter a livello di incassi che prima invece non avvenivano con Pirelli, eccetera, eccetera. Soprattutto la riapertura degli stadi che l'anno scorso è stato un grosso problema anche a livello finanziario, quindi di liquidità, non solo per il bilancio. Quest'anno gli stadi si sono riaperti non ancora al 100%, si inizierà proprio domenica e non sempre con la stessa capienza, però comunque l'anno scorso è stata una stagione vissuta con praticamente tutto il campionato a porte chiuse. Quest'anno per fortuna non è stato così e poi l'eccessione estiva, l'eccessione di Hakimi e di Lukaku, anzi di Lukaku in questo caso, che ha portato tantissimi soldi in cassa e di cui beneficeremo anche appunto quest'anno, ma non solo. Quindi questo è un po' il quadro e il bilancio è ancora in rosso di una cifra comunque importante, ma non sono i 245 spaventosi della scorsa stagione. Un punto brevissimo in chiusura sul mercato, poi da domani, vi dico già, ci concentreremo naturalmente su Juventus-Inter perché poi mancheranno poco più di 48 ore. Ci sono tre notizie di cui voglio parlare. La prima, molto molto breve, che è una notizia tra virgolette riguardo a Gianluca Scamacca, arrivano ulteriori conferme sul fatto che rimanga il nome prioritario che l'Inter ha in mente per l'attacco. Sono state, sono diciamo tornate in auge anche delle voci su Romelu Lukaku che però continuano a trovare poco terreno fertile. Non tanto perché l'Inter non lo giudica un giocatore forte a livello tecnico, ci mancherebbe altro, quanto perché nonostante la sua volontà ormai abbastanza chiara di voler tornare a Milano, l'operazione è davvero molto molto complessa per non dire impossibile. E quindi il nome lo lasciamo lì, lo posizioniamo qui sul tavolo di fianco, però si lavora soprattutto su altri e ripeto, il nome principale è quello di Gianluca Scamacca su cui peraltro vi segnalo che ieri il nostro Lorenzo ha dedicato un episodio al giocatore per parlare un po' di lui, chi è la carriera, che caratteristiche ha. Quindi lo trovate sui nostri canali, non perdetevelo. Seconda notizia importante, l'agente di Gleison Bremer, nome numero uno dell'Inter per la difesa in questo caso, è stato in queste ore in sede all'Inter. Una notizia che questa mattina ha rilanciato tutto sport richiamando calciomercato.com ribadito all'agente di Bremer ciò che si ripete anche qui da tempo, ormai ovvero il fatto che l'Inter vuole puntare su di lui, è il primo nome della lista per la difesa ed è un'assoluta priorità. Il costo sono 25 milioni di euro circa, si parla di questa cifra, e l'Inter lo porterà a casa contestualmente, anche qui è una cosa che ripetiamo da tempo e trovo sempre più conferme, contestualmente ad un'ormai probabile cessione di Stefan De Vrij. Non è ancora chiaro se dovrà necessariamente arrivare prima a livello proprio concreto per le tempistiche o se si potrà fare anche dopo, però questo scambio, questa porta girevole appare inevitabile. Ultima notizia, non so se è meno importante o comunque su un nome che scalda meno, questo me lo direte voi, Paolo Di Bala, perché ieri abbiamo intervistato Furio Valcareggi, il nostro Pietro Magnani ha contattato Furio Valcareggi che è stato, è un procuratore ed è stato uno dei primi, se non forse addirittura il primo, anche nel momento in cui la Juventus sembrava vicinissima a poter rinnovare il contratto di Paolo Di Bala, è stato uno dei primi a dire in realtà Di Bala andrà all'Inter. L'abbiamo intervistato, trovate l'intervista sul nostro sito passioneinter.com, ve la lascio magari anche in descrizione. Valcareggi sostanzialmente ci ha detto che di grosse novità attualmente non ce ne sono, però l'Inter, come vedete dal titolo, è in pole position grazie al fatto che Beppe Marotta, uno, non vuole farsi scappare questo talento a parametro zero e due, come sappiamo, ha un grandissimo legame con lui e quindi lo vorrebbe portare a Milano. Vedremo cosa accadrà, vedremo se Di Bala farà parte dell'Inter della prossima stagione, qui in tanti se lo augurano e in tanti invece no, quindi un altro nome molto divisivo, ma ormai da questo punto di vista ci siamo abituati, sia per la panchina che tra i giocatori, quindi abbiamo la pelle dura in questo senso. Queste ragazzi erano quindi le notizie di giornata, spero di avermi fatto un quadro della situazione abbastanza chiaro, vi ricordo se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio di lasciarmi un commento con i pallini merazzurri, perché adesso abbiamo parlato un po' di nazionale peraltro in maniera piuttosto negativa, ma adesso dobbiamo tornare focalizzati sull'Inter perché ci aspetta una volata finale di campionato decisiva, quindi emoji dei pallini merazzurri, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, così ci sostenete da qui in avanti abbiamo superato ampiamente quasi 30.000 iscritti, ci stiamo dirigendo verso i 35.000 e oltre, vi ricordo poi che potete anche sostenere il nostro progetto se vi piace il nostro modo di trattare le notizie e di trattare il quotidiano interista insieme a tutti voi o su www.passioneinter.club oppure direttamente sul canale YouTube cliccando il tastino abbonati. Il vostro sostegno è davvero fondamentale per noi per continuare come vedete a portarvi ogni giorno contenuti, episodi, podcast, dirette, articoli e tutto quanto rientra nell'ecosistema Passione Inter. Per il resto ci vediamo chiaramente per parlare di queste notizie e di tante altre tutti i giorni a partire da stasera in diretta dalle ore 19.30. a partire da stasera di tante di tante